Musè, Ramses, voi siete cresciuti insieme come fratelli. Abbiate cura l'uno dell'altro. Sempre. Sai che c'è qualcosa di sbagliato, lo hai sempre percepito. I tuoi genitori non ti hanno mai detto la verità. Quale verità? L'anno della tua nascita ci fu una profezia che sarebbe nato un condottiero per liberarci. Quel condottiero sei tu, Mosè. Dopo più di 400 anni di schiavitù, la situazione è molto... degenerata. Sono tuo fratello, tu devi liberarli. È una minaccia. Sì! Voglio Mosè e la sua famiglia morti. Qual è la cosa più importante nella tua vita? Sei tu. Quando mi lascerai? Mai. Vediamo chi è più bravo ad uccidere. Tu o io. Se questo è per umiliarmi, ti dico che non è così! Sono venuto a dirti che sta per giungere qualcosa. che va ben oltre me e te. Si tratta della sopravvivenza dell'Egitto, lo comprendi? Chi ti ha detto questo? Dio. Io sono un Dio. Io sono un Dio! Seguitemi e sarete liberi! Sì! Ricattureremo 400.000 schiavi. Non ricattureremo nessuno. Abbiamo davanti un mare e dietro un esercito! Preparatevi! Ciao a tutti, benvenuti. Oggi una curiosità sull'attore Benedict Cumberbatch, che ci piace tanto. Voi lo sapevate che per prepararsi per il suo ruolo di Smaug in Lo Hobbit, la desolazione di Smaug, Benedict è andato allo zoo di Londra per studiare i rettili. In particolare i draghi di Komodo. Lo sapevate? Altra curiosità, in italiano è stato addoppiato da Luca Ward. Questa era la pillola di oggi. Io vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti da Valeria.